La signora di dolore ha detto che sarebbe se felice se lei venisse questa sera nella sua casa dalle dieci e mezzanotte per festeggiare la riuscita del suo ultimo intervento di chirurgia plastica Brava! Grazie Cosa devo riferire? La risposta è pagata Vabbè? Mamma non potrò venire da te questa sera Non vuol dire che non è necessario che le canzi signore? No Ma che lei è in ritardo? Sono già le 11 e la festeggia è iniziata Sì non potevo passare prima Se si sbriga fa ancora in tempo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti